Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video! Oggi vi farò vedere cioè mi sento nel paese dei barocchi tutta questa scatola piena di cioccolatini che non si trovano facilmente in Italia in alcuni paesi invece di chiamarle Kinder o Nutella si chiama Anuta non so chi perché questi prodotti li volete comprare sulla frutteria del Caribe che si trova o su Facebook o su Instagram ovviamente oltre a quelli dolci e poi sono quelli dolci perché mi verrà sicuramente il diabeto e ci sono anche quelli salati iniziamo subito allora abbiamo la Nutella con il più il cacao quindi verrà ancora più cioccolatosa voglio vedere l'odore perché non sarà uguale sicuramente con la Nutella poi Yeppip ok allora abbiamo Yeppip però l'altra volta abbiamo scelto di quello con il cioccolato invece qua è nocciola poi abbiamo diversi va per Anuta tipo 10.000 cioè ci sono l'imbarazzo wow cioè non sono un po' troppi raga poi abbiamo questi qua che sono sono al cacao quindi cioè sono un po' diversi tipo cioè sono un po' a serio allora qua invece c'è ah questo qua invece è con il biscotto poi non l'ho mai vista questa cosa è scritto Lion ed è fatta col cocco penso e ci sono due perché è questa qua che pesante oh sì c'è una ragazzi quindi è verissimo e qua c'è al cocco penso sì è il cocco questo è al cocco è un altro sempre con il cocco poi abbiamo il Kinder Cremie ah no che carini allora sono i duplo e con cioè biscottini tanti tipo penso boh poi non lo so però è piccolo che carini un altro ah questo qua capito sono cioccolato no questo qua è cioccolato bianco questo qua dovrebbe essere cioccolato bianco penso penso poi non lo so poi lo assaggieremo allora qua invece avete presente i Kinder quelli maxi ecco però questi qua sono dark e mild può essere che è fondente forse non lo so poi poi abbiamo i crispy dei baci per cugino saranno buonissimi ah è il cioccolato in pratica oreo Enrico porto via di cioccolato e dentro c'è appunto il cioccolato per oreo allora questi qua sono dei biscotti col caramello che buoni saranno ok questi sono miei sempre il duplo però con le nozzoline dentro e cioccolato bianco sì ricoprase cioccolato bianco questo qua l'altra volta l'avevamo mangiato però questo qua invece è più grande vi ricordate quella barretta quella vabbè sì avete capito cos'è questo questo qua sta gigante ah allora questo qua è il Kinder Bueno al cocco sì giusto qua c'è il cocino madonna mia sta cronando tutto il mondo poi abbiamo ioreo sarà steam al al Kinder Delice però cioè ovviamente oreo non è uguale poi abbiamo i chocobones non ho capito se sono più grandi o più piccoli vabbè sono crispy sono croccanti mi sento in un video si bella ah un altro quello duplo però white quindi col cocco con il bianco i giotto cioè avevo capito che all'interno c'era una matica dove si mangiava ok ah ok cioè è tipo lungo 10 metri sì allora è tipo come chocobones soltanto con all'interno penso nocciola ah non buoni ah questi qua sono altri chocobones col cioccolato bianco ovviamente sempre con le nocciole 200 grammi tutti i miei ok ho finito la scatola la sposa è più bella del cibo via ok ok allora io ho preso la nutella perché giustamente non potevo non prenderla poi questo qua il kinder max non ho capito se è fondente penso di sì comunque il kinder delizale il cocchino mio poi ho preso il kinder cremi e allora gli epipo perché ne ho mai assaggiati così cioè io ho saluto quelli al cioccolato non questi quindi vorrei assaggiarlo poi questo non lo so sono molto attirata e il dublo questi qui ok ovviamente ho preso il cocchiaino mignon però io prenderò tutto il barattalo con un solo cocchiaino assaggiato allora iniziamo ad aprire allora dobbiamo aprire oh wow cioè ok mi sporco la mano raga no che brutto sporcarsi la mano allora iniziamo cioè ragazzi sarà buono ma è più dura rispetto alla nutella cioè ya 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 buonissimo ok la nutella è promossa quindi può andare all'accademia dove vuole e allora vorrei assaggiare prima prendo tutte le cose che sono liquide come tipo la nutella che devo assaggiare con cocchiaino no ti giuro mi sembra mi giuro mi sembrava uno yogurt ma cos'è oh ma che so oddio ah sotto c'è il cioccolato un po' di più di fantasia ya ya no scusate è tipo buonissimo cioè cioè raga ora andiamo sul duplo non so perché cioè ho deciso a caso ho preso la prima cosa che ah pensavo che era diviso cioè però sarà buono wow ah avevo capito una cosa quindi sicuro l'altro sarà uguale sembra un tronco d'albero cioè se voi lo mettete così sembra un tronco d'albero mmm buono perché è cioccolato bianco alla fine quindi cioè è proprio buono basta perché ti metti ingresso no scusa andiamo sto prendendo tutte cose a caso ragazzi quindi non ditemi il perché sto prendendo questa cosa perché la prendo la prima cosa che vedo cioè sì ragazzi è fondente più scuro oh sarà il cacao come questo wow è sanissimo dare un kinder così sì è leggermente fondente cosa ho un pezzo qua andiamo sul kinder bellissime ho le mani umide sì è una parola di kinder è più che però è un po' più largo ecco è buono anche il cotto ecco la cocco buono 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 poi dovesse vedere a scoppiò nel mondo sì allora è una specie di wow è tipo gigante è buonissima è buonissima è buonissima se siete come un disastro sì ragazzi si vede il mio dito all'interno cioè lui voleva essere mangiato per prima io ti mangio per prima è uscito di poco non so non so perché aia mi sono tipo rotta una mano cioè allora staccare tutto a terra però troppo carincia guardate gli occhietti come sono fatti bene andiamo a mangiare il muso ci soglia qua sotto ragazzi aiuto e va bene i miei cricini se avete piaciuto questo video lasciate tantissimi like qua iscrivetevi qua al canale e attivate la campanaglina per non perdere nessun video che caricherò mi metterò anche la mia maglietta non ve l'ho fatta vedere all'inizio ora è commentato o su instagram mi chiamo così o sulla community qual è il vostro cibo preferito a me ad esempio il mio è stato il kinder duplo e il kinder creme cioè non posso decidere prego perché cioè il kinder duplo cioè è troppo buono il cioccolato bianco mi piace tantissimo il kinder creme pure perché alla fine è come il kinder joy vi saluto a tutti voi vi mando un grandissimo abbaso e ci vediamo al prossimo video ciao